Scusami per questa improvvisata a casa tua. Fabio, c'è qualcuno? Formerete due squadre. Ci saranno tre giochi a cui partecipare. Iniziamo. Lasciami! Cosa hai fatto? I giochi sono finiti. Senti. Senti. Questa è la foto più importante. La vuoi vedere, Matteo? Matteo, ora tocca a te. Dai, sedetemi. Adesso saremo tutti insieme dietro. Dentro la casa che brucia. Torniamo. 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 Tu sei qui solo per le riprese E tu le fai al regista, no? E allora questa è una bella occasione Questa ci sarebbe tutto quello che avete portato Eccola qua, ce l'ho io, hai visto? Calma, calma, quello è solo l'inizio Poi per quelli di voi che faranno i bravi ci sarà anche una sorpresina extra Questa per bagnare Francesco Io propongo di metterci Matteo a riprendere 24 ore su 24 Sai, nel caso succeda qualcosa di male Forse vorresti starci tu a riprendere, eh, coglione No, coglione sei tu, visto che sei venuto qua spassante nella cosa di prendere la merda, giusto? Senza coca, la co-tipa non te la dà È un concerto Il cantante lancia tope sul pubblico e c'è anche chi li prende Tu non avresti disolto le palle Parli, parli, va alla fine Sei tranquilla che stasera si vedrà chi ha le palle o meno Ottimo occhio Ma tu mi devi sempre stare, ci devi sempre stare addosso Oh, magari dai Non ti permettere, il nostro amico a te non si tocca È qui a riprendere tutto, ogni cosa Ieri sera all'Enel ho fatto un incontro molto interessante Si chiama Andrea, lavoro nella finanza o una cosa del genere Non ricordo neanche di che cosa abbiamo parlato e chi abbia attaccato un bottone per prima Sai, l'altra sera ho sognato Andrea E cosa c'è di strano? Che ho fatto questo sogno prima di conoscerci Mi presenti i tuoi amici? Mi presenti i tuoi amici 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 Spero di aver fatto un bel film Io voglio fare un film E hai intenzione di farlo qui? No, ma mi servono persone per fare un film anche se piccolo Venendo qui speravo di trovare qualcuno disposto ad aiutarmi Loro non ti aiuteranno di sicuro Gli servi stasera è basta, non l'hai ancora capito? E allora che puoi aiutarmi? Ma se vuoi io Aspetta Almeno inquadrare con calma Che film vorresti fare? Date le nostre conoscenze, è un horror Mi piacciono gli horror Mi piacciono le nostre conoscenze, è un horror Morte Vado Vado, io vado la morte Mi piacciono le nostre conoscenze, è un horror 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 Mi piacciono le nostro canale Mi piacciono le nostro canale Mi piacciono le nostre conoscenze, è un horror 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.